I cancelli della Biblioteca Albino di Campobasso, dopo quasi tre anni di attesa, potrebbero finalmente riaprirsi. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha infatti previsto per il 2019 un finanziamento di circa 422.000 euro. I fondi serviranno per i lavori di adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza antincendio e costituiscono un ulteriore importante tassello del percorso iniziato lo scorso marzo con il tavolo tecnico ministeriale che vide la partecipazione dell'onorevole Rosalba Testamento insieme al sottosegretario Gianluca Vacca e al direttore del polo museale Leandro Ventura. Venerdì mattina, ha spiegato appunto la parlamentare pentastellata, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero mi ha informata che nelle scorse settimane sono state effettuate accurate verifiche sia sulle idoneità dell'edificio che ospita la biblioteca nonché sullo stato conservativo del patrimonio bibliografico attraverso il coinvolgimento dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico Librario e che a breve si procederà a redigere un cronoprogramma degli ulteriori necessari interventi manutentivi. Per il 2020 sono previste infatti risorse per 250.000 euro per attività di scavo e valorizzazione del Santuario di Ercole a Campochiaro e circa 750.000 euro per il restauro del Convento di Gesù e Maria a San Martino in Pensilis. Grazie a tutti!